Carlo Calenda, è un piacere vederla, benvenuto a questa Faccia a Faccia. Grazie mille. Allora, prima di parlare del suo nuovo ruolo nella politica italiana e europea, parliamo di economia e mercati un attimo, perché per le fonti tv c'è un grande interesse nei suoi pensieri. Descrivimi l'economia italiana oggi. L'economia italiana la descrivo come se fosse un'azienda. E' poco come se fosse un'azienda che ha un ottimo prodotto e lo vende bene, però allo stesso tempo ha investito poco per moltissimi anni. Quindi ha un personale che non sempre ha le giuste competenze e ha una tecnologia che non sempre funziona, in più ha un grande debito. Ecco, un'azienda di questo tipo, come si salva, come si rilancia? Si salva investendo, cioè andando da quelli che ti devono prestare i soldi e dicendogli, guarda, questi soldi li uso per investire, per crescere, per svilupparmi e per formare le persone e le competenze che mi servono. Ecco, ma in termini di macroeconomia in questo momento, che siamo o siamo stati in recessione tecnica, mi sembra quasi chiaro, però dopo questa recessione tecnica, ricordiamo a chi ci guarda che la recessione tecnica vuol dire due trimestri consecutivi di mancanza di crescita, però dove potremmo andare da zero? Potremmo andare a 0,2, 0,5? Siamo davanti a una crescita nel 2019 del PIL italiano da prefisso telefonico? Secondo me saremo sotto e questo lo mostra il trend degli investimenti. Gli investimenti si sono fermati e ovviamente gli investimenti determinano la crescita nel tempo. Si sono fermati, noi abbiamo sempre avuto un gap con la crescita europea. Nel 2017, quando abbiamo fatto 1,6, il differenziale con la crescita europea era sostanzialmente di 1,08. Questo 0,8 è diventato 0,9 nel 2018 e diventerà intorno a 1,1 nel 2019, cioè quest'anno. Quindi qual è, cosa capiamo da questo? Che in realtà noi stiamo peggiorando nel confronto con gli altri paesi europei. Questa è la quota di responsabilità di questo governo. Cioè lei pensa che la crescita sarà almeno un punto percentuale quest'anno? Sì, l'anno scorso, quest'anno 2019. Io penso che il differenziale, cioè la differenza tra quanto cresciamo noi e quanto cresce l'eurozona, si sta allargando. Quindi noi stiamo andando molto peggio. Quel differenziale è la responsabilità del governo, il resto è il ciclo economico. Ma lei è d'accordo con la Banca d'Italia, il Fondo Monetario, che parla di poco più di un mezzo punto percentuale di crescita? No, secondo me andremo a zero. Oggi un gruppo di economisti ha scritto su questo tema già prevedendo crescita a zero. Quello che io so, perché me lo ricordo a quando stavamo al governo, è che il Fondo Monetario tende a essere paradossalmente, a stare attento a dare giudizi oltre un certo orizzonte. Quindi normalmente se ti dice che sei allo 0,5, poi sei sotto lo 0,5, in questo momento sta dicendo 0,6, sotto lo 0,6 e poi ancora più giù. Quindi secondo me la crescita quest'anno sarà zero o negativa. E la disoccupazione rimarrà 10-11%? La disoccupazione rimarrà, aumenterà. Il debito pubblico aumenterà un po'. Il debito pubblico aumenterà, la disoccupazione aumenterà e soprattutto, ripeto, quello che si rischia di perdere era un trend molto positivo di crescita degli investimenti privati, che secondo Confindustria hanno aumentato addirittura del 30%, che era derivante dai maxi stimoli del piano impresa 4.0, che avevano dato investimento, un grande premio fiscale per chi investiva in digitale e chi in macchinario. E lei ha capito ancora che fine ha fatto un capolavoro su Industria 4.0, molto amato dalle piccole imprese? Eh sì, l'hanno depotenziato. Cioè l'hanno tagliato, dicendo, facendo due errori clamorosi. Uno l'hanno tagliato in generale, hanno smesso di investire sulle competenze, che era il secondo pezzo del piano molto importante, e soprattutto quello che hanno fatto, hanno detto leviamo tutti i tipi di supporto per le imprese medie e grandi. Ma è una stupidaggine, le imprese medie vanno incoraggiate a investire, e vanno incoraggiate le aziende piccole a diventare medie, mentre invece tutta la retorica di questo governo è a favore del nanismo dell'impresa. Non ha senso, perché noi dobbiamo farle crescere le imprese. Tanti economisti dicono che questa manovra attuale, che fa leva sulla spesa pubblica in deficit per assistenza sociale da un lato e disfare la riforma fornero dall'altro e con quota 100, è recessionario, è recessiva. Mentre il governo dice no, è espansiva. Come la vede lei? No, non è affatto espansiva. Intanto c'è molti problemi diversi dall'espensiva o recessiva. È poco espansiva perché diminuiscono gli investimenti. Gli investimenti sono la componente che ha il moltiplaciatore più alto e pertanto se tu diminuisci gli investimenti, la spesa, diciamo così, tra virgolette improduttiva, ha ovviamente una quota di moltiplicatori diversa. Poi ci sono proprio degli errori concettuali. Faccio un esempio, loro dicono sì, ma noi faremo spendere i soldi del reggio di cittadinanza e quindi ci sarà. Ma il tipo di acquisto del reggio di cittadinanza è molto spesso di prodotti importati. Quindi ti aumenta l'import e per conseguenza ti peggiora il saldo. Quindi è proprio, dal punto di vista economico, è una manovra stupida. Sono strampieri. Dal punto di vista sostanziale è una manovra pericolosa. Perché, faccio l'esempio, io trovo più pericoloso di tutto il reggio di cittadinanza. E voglio dire una cosa, il reggio di cittadinanza rappresenta la rottura del patto fondamentale della Repubblica italiana. Perché nel momento in cui tu dici che una persona che sta a casa può guadagnare da 780 a 1330, stai dicendo che un infermiere, un poliziotto, un insegnante, un operaio, contribuiscono a pagare un sussidio che è più alto del loro reddito. Quindi è una manovra che stabilisce il principio che il sussidio che viene dato, un sussidio che viene dato, può essere superiore al reddito. E questo sussidio viene pagato da persone che hanno difficoltà ad arrivare alla fine dell'anno e da persone che lo pagheranno nel peggiore dei modi possibili, cioè con l'amento delle clausole IVA. Una manovra che dovrebbe stimolare la crescita o creare nuovi posti di lavoro, presumibilmente basato su quello che ha detto, dovrebbe avere investimenti pubblici aumentati non da 2 o 3% come questa manovra, ma per assurdo, se volessero creare lavoro, allora in deficit, allora spendi questi 15 o 20 miliardi su investimenti pubblici tutti e fai una politica keynesiana. Rispondi a questa provocazione. Allora, io ho una mia idea, tra l'altro, che tu gli investimenti pubblici, dal momento in cui pianifichi, e quindi vai in deficit, al momento in cui atterrano sul PIL, hanno un ciclo di 3-4 anni. Per esempio, Industria 4.0, cioè lo stimolo agli investimenti privati, aveva un'allocazione del capitale molto intelligente. Perché? Perché tu dicevi all'imprenditore che devi investire subito il primo anno, e quindi effetto di PIL immediato, effetto di occupazione immediato, ma poi pagavi come Stato sulle quote di ammortamento. Quindi quella manovra valeva 30 miliardi, impresa 4.0, ma lo Stato pagava nel tempo e chiedeva all'investitore di fare gli investimenti subito. Noi abbiamo bisogno di questo tipo di acceleratori. Anche la parte di investimenti pubblici, se non si scaricano in un tempo breve, è come non averli, perché escono dal ciclo economico. Se tu hai, decidi di fare una ferrovia, ma la realizzi fra 5 anni, intanto stanzi i soldi subito, beh, hai perso il ciclo economico e non ti serve assolutamente a niente. E prima di arrivare alla domanda sulla sua ricetta per l'economia, vorrei soffermarci un attimo sulla questione dei mercati finanziari. Io parlo con investitori stranieri, lei parla con investitori internazionali anche. Qual è la sua sensazione? La sensazione è che siano, vabbè, è del tutto evidente che c'è stata una massicissima fuga di capitali internazionali e italiani. Io sono molto preoccupato da un fenomeno, ma gli investimenti stranieri non ne stanno più arrivando, ma sono molto preoccupato da un fenomeno. Perché gli investimenti stranieri, per capire, nel 2016 sono saliti a 20 miliardi, credo, da 12... Sì, attenzione, parliamo degli investimenti non finanziari. Sì, direct, foreign direct investment. Esatto, quindi sono gli investimenti, per spiegarlo, in attività produttive. Sì. Dopodiché noi abbiamo anche un gigantesco attrazione di investimenti finanziari, cioè per dire di acquisto di azioni di società in bolsa. Non parlo di questo. FDI, cioè foreign direct investment, hanno fatto molto così, sono andati molto bene nel corso degli ultimi 4-5 anni, perché avevano una condizione di accoglianza molto positiva, nel senso che avevano una normativa riformata sul lavoro, avevano un IRS, un'imposta che era stata abbassata, molto significativa. Stessa cosa sull'IRAP. quello che invece sta accadendo adesso è che il rischio Italia, tornato sulla scena, fa sì che la gente non ci vuole più investire. E questo vale, per esempio, anche per molte crisi industriali, dove abbiamo trovato investitori che potevano subentrare, ma che stanno alla finestra. E parliamo dello spread. Un anno fa era poco più di 100, ora siamo a 2,50 e sembra che non importa più. Perché ci dovrebbe importare lo spread? Ma per due ordini di ragione. Intanto i soldi che abbiamo buttato fino adesso, abbiamo buttato un miliardo e mezzo l'anno scorso, noi butteremo 3-4 quest'anno, buttati, cioè non hanno nessuna utilità. Spieghi al pubblico cosa vuol dire. Cioè abbiamo speso di più di quello che spendevamo per collocare i nostri titoli di Stato. Punto. Su interessi. Su interessi, sì, sì, sì. Cioè non c'è nessun vantaggio di nessun genere. Quasi il valore di un reddito di cittadinanza. Sì, più o meno, sì. Quindi può vanificare. Sì, beh, diciamo un quota 100, chiama, eh? Quota 100, buttata. Ok. Ora, qual è l'altro problema? Che l'aumento dello spread ha un'effetto a cascata su nuovi finanziamenti bancari, disponibilità delle banche a prestare, costo dei finanziamenti, tutto questo su cosa incide? Sull'investimento. Che gli investimenti diventano più difficili e più costosi. In un ciclo che va a essere negativo, dove tu devi stimolare gli investimenti, hai messo in atto il processo di frenata degli investimenti più banale che c'è. E quando ti aumentano i tassi, automaticamente tu investi meno. Ecco, tutte queste cose qua fanno capire che questo governo ha veramente una scarsa conoscenza dei meccanismi dell'economia. perché se tu dici io farò gli investimenti pubblici fra cinque anni, peraltro gli aumenti in maniera insignificante, ma nel frattempo dici chiunque chiederà dei soldi in prestito per fare un investimento, li pagherà, pagherà un costo di quel denaro che è il doppio di quello che pagava prima, hai verificato qualunque tipo di crescita. Tutto questo, costo del debito pubblico aumentato, politiche che secondo lei non sono espansive ma recessive e problemi concentrali di come stimolare la crescita, la domanda interna, quali sono i rischi per l'economia italiana nei prossimi sei o dodici mesi? Ma allora, io vedevo profilarsi tra ottobre e novembre un rischio davvero gigantesco, quello che ha salvato il paese da un rischio quasi innominabile è stato il fatto che il governo ha fatto una retromarcia incredibile, cioè dopo aver detto lo spredo non me ne importa niente, adesso sono fermati tutti quanti. Il rischio che io vedo è il fatto che peggiora il clima internazionale in modo molto significativo e noi anticipiamo questo peggioramento. Nel frattempo che anticipiamo questo peggioramento abbiamo una dinamica in Europa che diventa sempre più conflittuale di questo paese, quindi un isolamento sempre più forte. Allora, premesso che Saldini e Di Maio hanno detto fino a un minuto prima di entrare nel governo che volevano uscire dall'euro e adesso dicono che ci vogliono restare, io penso che loro sottovalutano un rischio, cioè il rischio che a un certo punto sia l'Europa a dire cari signori, avete il più alto debito pubblico e siete un gigantesco problema a fare tutti gli avanzamenti delle politiche finanziarie comuni. Siete il punto di ingresso dei migranti, sapete che c'è, ci attaccate ogni giorno, così in modo insensato, ieri Di Battista ha detto voglio l'incidente diplomatico con la Francia, ma l'incidente con la Francia lo fai se c'ha un senso, io l'ho fatto su Fincantieri, non è che lo fai così. Ecco, tutto questo possa a un certo punto dire, sapete che c'è, l'Italia è fuori dal gruppo di testa dei paesi europei e piano piano è sempre più spinta a margine dell'Europa. Io questo rischio per noi sarebbe mortale. E parlando proprio del contesto europeo, lei ha creato un nuovo movimento che si chiama Siamo Europei. Sì. Ci racconti. Sì, io penso che oggi c'è una maggioranza di italiani che non si riconosce negli attuali partiti e che ha un'idea molto chiara e molto semplice, l'Italia deve rimanere nel gruppo di testa dei paesi europei, con cui si combatte, cioè si scambiano pugni, ma comunque sono i tuoi partner e deve rimanere in Europa e deve far evolvere l'Europa verso una direzione per la quale Europa non è più solo un mercato, cioè un mercato unico, importantissimo per noi, perché vendiamo metà, 250 miliardi di euro, metà del nostro export e non è solo un posto dove si può circolare liberamente e non è solo un grande mercato che fa accordi con altri mercati, ma è anche qualcosa di più. E quindi che cos'è di più? È la costruzione di un welfare comune, la gestione di politiche come quelle migratorie, in particolare nei paesi di origine e transito dei migranti, mettendo tanti soldi, noi li abbiamo fatti crescere, oggi sono 31 miliardi di euro dall'Europa per i paesi di origine e transito dei migranti in Africa, ma sono in sette anni, vanno moltiplicati per dieci, perché solo così fermiamo e gestiamo le migrazioni, ecco tutto questo è gli italiani che vogliono che sia fatto un lavoro serio e che l'Italia rimanga un grande paese del G7 di cui siamo orgogliosi, che abbiamo portato fino a qua, e non che diventi il lacchè di Orban della Polonia, che stia lì a margine dell'Europa. Certo, per fare questa cosa bisogna costruire una lista che sia potente, che sia nuova, innovativa, e che parli a un mondo molto largo. Però, per un italiano, perché deve interessarmi la vostra offerta politica? Cosa offri agli italiani? Eh, offro questo, cioè di dirgli, caro italiano, noi combattiamo per un'Italia seria, per un'Italia che in Europa va a difendere il suo interesse nazionale, sapendo che il suo interesse nazionale è rimanere al centro dell'Europa. Per un'Europa che investa molto di più, perché stiamo perdendo il leadership in settori industriali, non solo noi italiani, ma tutti gli europei, che sia dentro il gruppo di testa, per cui quando fanno un accordo Germania e Francia ci sia anche l'Italia, perché noi sulla politica industriale, sulla politica della difesa, eccetera, dobbiamo essere lì dentro, perché se no le nostre aziende moriranno, e che appunto gioca in serie A. Con grande durezza, io sono il primo per esempio a dire, quando ci sono in casi come la 18, come il caso di questi giorni, quello che io dico è, Salvini e questo governo danno uno spettacolo pessimo, ma l'Europa non dà uno spettacolo migliore. quindi attenzione, cerchiamo di non idealizzare quello che l'Europa riesce a fare, ma appunto dobbiamo stare lì e combattere. Gli italiani per la larghissima maggioranza vogliono rimanere in serie A in Europa. Qualcuno dice, ma io ho votato, Salvini, io ho votato Di Maio, perché questi del centro-sinistro, del passato, erano lontano dal popolo, non hanno capito le vittime della globalizzazione, della tecnologia, ci hanno ammolato, abbiamo sofferto e loro sono screditati. Come rispondi a questo? Rispondo che c'è una componente di verità che è molto più larga di questi del centro-sinistro. Negli ultimi 30 anni innovazione e globalizzazione hanno diviso enormemente tra vincenti e perdenti. 2017, record di export per l'Italia, record di povere. Quello che però va fatto per rimettere insieme questi pezzi è un lavoro serio, non sono le dirette Facebook, non è dire che il lavoro non conta più niente e possiamo tutti vivere di sussidi. E io credo che noi avevamo incominciato a fare questo lavoro. Quello che non abbiamo fatto, quello che abbiamo dato l'impressione di essere molto arroganti, per cui abbiamo detto i problemi sono risolti, l'Italia ha cambiato verso, chi non lo capisce è un bufo e questo ha fatto imbestialire giustamente l'italiano. Però se il PD è equilato al 18%, il 17% e diversi dal PD sono andati a votare evidentemente per 5 Stelle o per qualcuno che non era il PD, perché devono votare per Siamo Europei? Cosa offri a loro? Perché? Per la loro famiglia per il futuro, in termini concreti. No, in termini molto concreti io distanzierei il piano europeo e il piano italiano. Per me quello che è centrale oggi è fare un grandissimo New Deal, un piano straordinario sull'educazione e sulle competenze. Noi abbiamo un livello di analfabetismo funzionale, cioè persone che leggono ma non capiscono quello che leggono, che non ha pari nei paesi europei. È il doppio dei paesi occidentali. Scusa, il 25%? No, arriva fino al 37%. È un disastro nazionale. Noi stiamo preparando una generazione che rischia di essere una generazione di camerieri dei cinesi. Ecco, noi dobbiamo tirare fuori gli italiani da lì. Cioè questa è la priorità numero uno. Dobbiamo crescere, per dirla in estrema semplicità, dobbiamo far crescere un figlio di una famiglia disagiata di Pomigliano d'Arco come il figlio di un grande borghese di Milano. Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo portare a casa. E tutta la politica deve remare in questa direzione, perché altrimenti quello che noi costruiamo è una mobilità sociale che si ferma, delle disuguaglianze che aumentano, una società più ingiusta. Non esiste distribuzione della ricchezza senza distribuzione delle conoscenze. E fai conto che i sondaggi sono corretti e che siamo all'IPEI e Carlo Calenda ottengono alle europee il 20-24% del voto. Cosa farai da grande a quel punto? Io spero di ottenerne ben di più. Credo che questi sono i primi sondaggi e il nostro obiettivo è di prendere il 30% perché stiamo parlando comunque di una fetta molto larga di italiani. Io quello che farò intanto è rappresentare l'Italia in Europa perché come al solito bisogna anche capire che le europee sono le europee e quindi lì bisogna starci. Io ci ho lavorato tanto in Europa ho stato per un periodo breve anche ambasciatore italiano e quindi bisogna essere presenti non bisogna fare come Salvini che si pigliano tutti i soldi e si sta solo per la diaria e si fa un numero di assenze gigantesco e lì si decide la politica commerciale gli investimenti. Quindi innanzitutto questo una presenza forte e un presidio degli interessi italiani. E in secondo luogo quello che penso è che da questa nuova lista da questo nuovo movimento se cresceranno i cittadini che l'hanno oggi siamo quasi a 150.000 persone che sono iscritte e hanno detto io lo voglio sostenere su siamoeuropei.it ci sono se questo cresce potremmo dar vita davvero a un grande movimento civico un movimento civico degli italiani che vogliono rimanere seri che vogliono rimanere in seria ma vogliono anche che il lavoro abbia valore che la conoscenza abbia valore che la competenza abbia valore e sono la maggioranza dei cittadini quando noi designiamo Lino Banfi al comitato dell'UNESCO il grave non è Lino Banfi o non Lino Banfi premesso che non è il suo lavoro e quindi è sbagliato metterci è un bravissimo ottore comico ma non fa quello di lavoro il grave è che si associa al messaggio che dice basta con i laureati basta con i laureati cioè anti-intellettualismo ma non è un ma i laureati non sono intellettuali no la laurea è il principale sistema di mobilità sociale per la gente per crescere per guadagnare per avere più soldi per migliorare la sua posizione se noi diamo messaggi continui che l'ignoranza è un bene la preparazione e il lavoro sono un male beh signori c'è poco destino per l'Italia allora questa Italia io credo sia larga maggioranza io voglio cercare noi vogliamo cercare di rappresentarla con chi? con i tanti sindaci che hanno sottoscritto di città da Sala da Milano in giù con tantissimi per esempio medici e uomini di scienza perché la scienza è assurdamente è diventato un terreno di discussione con gli imprenditori ma anche gli operai dell'Alcoa dell'Ilba che hanno sottoscritto il manifesto cioè l'Italia che fatica lavora e produce e questa è l'Italia che ha fatto grande il nostro paese ultima domanda Romano Prodi ha detto che per lui questo voto di maggio 2019 con gli europei il voto più importante è da aprile 48 d'accordo e se sì perché? io lo vado dicendo da molto tempo perché decidiamo se stare in occidente o no come fu il voto del 48 dove a un certo punto l'Italia disse no noi vogliamo rimanere in occidente non vogliamo diventare un paese comunista un paese socialista e la idea è la stessa identica cosa vogliamo rimanere nel grande occidente vogliamo tenere i nostri valori democratici delle democrazie liberali oppure vogliamo scivolare piano piano verso Putin dal resto è quello che dice Salvini è Salvini che quando Mattarella va al Parlamento Europeo dice con davvero poca eleganza e poco senso l'orgoglio nazionale 5 Mattarella valgono mezzo Putin lui lo dice che vuole andare lì e noi vogliamo andare lì perché la Russia non è un bel paese dove vivere è il paese con le più larghe differenze sociali che esiste oggi fare l'operaio in Russia è la cosa peggiore che ti può capitare è un paese dove le distanze sociali sono enormi dove non c'è libertà allora da questo punto di vista io penso che sì queste elezioni sono fondamentali Carlo Calenda grazie molto per il suo tempo grazie grazie a tutti grazie a tutti